Io voglio una vera donna accanto a lei. Non mangiare quella roba. Se tu fossi tornata prima ci sarebbe la cena. Non puoi avere figli, sei una donna sterile. Dov'è la borsa? Dov'è sempre stata. Io l'ho. Ti troverò un'altra donna. Gli affari non vanno bene. Mi state buttando fuori come fosse uno strazzo usato. È illegale. Beh, allora portami in tribunale. Quanto tempo c'hai messo? Combini sempre qualcosa. Se avessi io una suocera così. Vuoi venire con me? Sì. Devi lasciarti coinvolgere. Risolveremo tutto appena tornerai a casa. La casa puoi tenerla con tutto quello che c'è dentro. Possiamo anche riprovarci. Io non voglio più tornare con te. Abbiamo un ingaggio per stasera. Ballate con i clienti e divertitevi. Gli farete un sacco di soldi, ok?